In questo numero del Salus Tg, chirurgia d'elezione per l'incurvamento dell'organo sessuale maschile ed eiaculazione precoce. 60.639 gli aspiranti medici e dentisti per 10.300 posti, dal mio ridati degli iscritti e test. Via libera dell'EMA per l'uso del primo vaccino antimalaria per i bimbi dei paesi africani endemici. L'indurazio penis plastica colpisce intorno al 10% della popolazione maschile, ma è ancora molto sottovalutata, soprattutto dai giovani che tendono a non rivolgersi dallo specialista. Il problema principale che questa patologia può provocare è l'incurvamento del pene con impotenza ed eiaculazione precoce. Lo specialista palperà la piccola placca in formazione, perché ancora abbiamo solo delle gomme infiammatorie all'interno del pene, un'ecografia peniena dinamica confermerà la diagnosi, ma soprattutto darà le misure della placca iniziale, dirà quali sono le dimensioni. Questa è molto importante per monitorare la risposta terapeutica. In 60.639 hanno fatto domanda per la prova di medicina ed ontogietria in calo rispetto ai 64.187 iscritti ai test nel 2014. In 7.818 si sono iscritti invece alla prova di veterinaria rispetto ai 6.940 del test precedente. A comunicare i numeri è il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. I posti disponibili sono 9.513 per medicina, 792 per odontoiatria, 717 per veterinaria. Via Libera dell'Agenzia Europea dei Farmaci ha il primo vaccino al mondo contro la malaria, una notizia accolta dai festeggiamenti degli scienziati in Africa. Il Comitato di esperti dell'EMA ha espresso parere positivo per l'uso di Mosquid X al di fuori dell'Unione Europea, nei paesi in cui la malaria è endemica, per l'immunizzazione dei bambini da 6 settimane a 17 mesi.